addirittura ci siamo al servizio apertura porte ma ti rendi conto scendiamo 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 buongiorno a te c'è tiro hai capito incredibile incredibile guarda che accoglienza mica siamo a milano anche se devo dire che pure a milano ci vogliono molto bene ci vogliono molto bene magari ci togliamo da centrostrada ma esiste vomero centrale vomero centrale c'è una zona del vomero quindi è la zona del vomero che c'è non c'è vomero centrale non è la stazione centrale come capite che vuol dire hai capito comunque oggi ti faccio consula va bene oggi ci tenete faccio consula ti faccio godere godere purtroppo il napoletano c'era un carissimo amico mio è un imbattico sono loro che lui e gli altri che non lo stanno molto bene lo parla una chiavica però non male non male non male non male è un po accentuato vero perché loro sono un spacciato come capito uguale ora vado gaggiato in metà package elettrica elettrica sta contento sta contento vabbè noi adesso vi dobbiamo salutare perché ci tocca andare a rispettare a consumare consumiamo tu per favore bada la macchina noi mimmo ho capito che la star è l'ello ma servire tino è l'ello e non portarla a me che so il direttore è un oltraggio a pubblico ufficiale te lo dico perché è così grazie da noi sai cosa si dice c'è sparte jav la media paura chi divide chi divide alla parte migliore va bene va bene noi aspettiamo c'hai altro altro molto lui non come molto noi dobbiamo andare a fare la passeggiare non possiamo non può mangiare avrai energie da scaricare moltissime da consumare io quando mi ha invitato sapevo che sarebbe stato tra i canali ti fermeranno tutti e tipi della tutta c'era sfogliatello babà cioè sarai oggi una giornata culinaria buon appetito è luigi avanti bravo giugino eccolo qua ma hai visto tiro com'è il napoletano un po' come il barese alla fine della fiera si è seduta a tavola con noi sarà per il pesce o per lello non si sa però sta seduto accanto a noi comunque meglio te che tino apprezzino vai da luigi che ti da un altro piatto un po' di basilico mi piace il basilico? un po' di funghi? salame di potino? olive? bene? cacciofi? cacciofili bravo vuoi altro? veramente qui su ma l'uscita è un po' di crudo? si è un po' di crudo vuoi altro? basta no basta va bene così un po' di olio? un pezzettino un po' va bene così? si facciamo la tua prima? esattamente la vuole tu o io? facciamoli insieme dobbiamo dare uno stacco vieni con me vieni con me vieni con me vieni con me la mettiamo qua allora devi dare uno stacco forte uno due via bravo avanti e indietro in un attimo non toccarla più quella no allora vai avanti e indietro così guarda una vai vedere bravissimo perché tu stacchi subito la pizza hai capito uno stacco come ti faccia qua facciamo una pizzantino vedi come ha fatto? a cuore sembra? sembra a cuore come la vedi? Eccoci qua, Lello Eccoci qua Grazie a Zai Grazie a te Cioè tu stai a Napoli Senza mozzarella e basilico Sai che significa basilico a Napoli? E' tutto, però Sei particolare Sempre stato particolare Troppo particolare Mi facciamo un segretto Vieni pure tu Vieni pure tu, girati Mimmo, non avevo dubbi Ma grazie Ma grazie Tu dovetevi andare con tutta quella roba Mi serve, mi serve Dovetevi andare Sei venuto a fare la spesa o ho invitato a mangiare? Eh, da cose no Mi fa fare sempre delle figure Lascia perché sto là il tuo Mascherino non ti conosco Non ce l'ha fatta a mangiare tutte Pizzeria Fiorillo Ricordatevelo, è una pizza strepitosa Una garanzia Una garanzia, non un avviso di garanzia Una garanzia, mi raccomando Perché potrebbe essere frainteso Cosa possiamo dire a Mimmo? Grazie mille, grazie a Saino Ben ha detto di L'ha fatto, l'ha detto È stato un piacere Grazie Non ti salutare A posto Signora Quando vi da Napoli È un rischio suo questo Mi mocchio Mi mocchio Eccolo 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 Cammina Cercate vicini Cammina Cammina Muoviti Corri Eccoci!